Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti più 6 ore in congelatore. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci messa 45 minuti in congelatore, latte condensato, amaretto di saronno, granella di mandorle, aroma di mandorle e mandorle caramellate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Versiamo la panna. Chiudere con il coperchio senza il misurino e senza tempo azionare il bimbi a velocità 3,5. La panna è perfettamente montata. Fermiamo il bimbi. Versare la panna in una ciotola capiente. Aggiungere il latte condensato ed amalgamare bene. Aggiungere l'amaretto di saronno e l'aroma di mandorle ed amalgamare. Aggiungere le mandorle e continuare ad amalgamare. Trasferire in un contenitore. Mettere su le mandorle caramellate. Chiudere con il coperchio. Riporre in congelatore per almeno 6 ore. Trascorso il tempo e gelato è pronto. Servire. Gelato alle mandorle. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.